Ecco, questo è il suo posto di lavoro Prego, si accomodi Adesso attiviamo Che colore è questo? Rosso Bravo E questo? Verde Bravo, molto bravo Allora adesso sentirà un cicalino Sì Al primo suono di cicalino accende queste luce rosse Al secondo suono di cicalino accende questa verde Al terzo suono Spegne tutto Questo è il suo lavoro Tutto qui, tutto qui Semplice? Semplice, sì Grazie La sua soddisfazione è il nostro miglior premio Hopso Niente Verde Un momento, mi sto soffiando il nesso Come va? Bene Si annoia un pochino Beh certo, non è che una cosa Allora mi dovrebbe usare una cortesia Rosso, rosso, rosso Sempre se no mi incomodo Per carità Ecco, tra un intervallo e l'altro Si, tra un rosso e un verde Tra un rosso e un verde Mi dovrebbe attivare la telescrivente col Q Col Q? Si, ecco questo bottone Q Ah col Q la lettera Piggiando qui si attiva Mentre amici, piggiando la S Passiva No, si disattiva Ecco qua, vede? Con la Q si attiva Con la S si disattiva Questo per otto punti Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Ah un momento, mi stanno Un momento, sto parlando con il direttore Chiaro? Chiarissimo Semplicissimo Semplicissimo La sua soddisfazione è il nostro miglior premio Pimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Un momento, sto facendo la Q Un momento, sto facendo la Q Sì? Sì, non c'è detto Scusi tanto, sono gli otto buchi Ma quali sono i buchi? Gli otto buchi della cosa Scusi Sbagliato Bucco, sbagliato Bucco, sbagliato Bucco, sbagliato E non lo sapevo, scusi tanto Bucco, sbagliato Ho il telefono Sì, ma adesso pure Bucco sbagliato Dica No, non c'è E non so dove stai Io sono il nuovo embiegato Pasquale Baudaffi Senti, è un giro tempo Richiamo un altro momento Siamo a miseria Un momento, stavo Stavo rispondendo, no? Come va? Benissimo Bene Senti, signor direttore Hanno telefonato per lei prima Io non sapevo risposto io Ha fatto bene Benissimo Venga Mi dovrebbe fare una cortesia Dica Se dovessero richiamare Sì Le dispiace rispondere Che il dottor Thomas Non è in sede Tutto qui? Beh, dato che va a rispondere Al telefono Mi dovrebbe fare una cortesia Sempre che non le dispiace Cercare Ecco Mi dovrebbe attivare Questo cipito zeta Eh? Beh, c'è questa qui Sempre che non le dispiace Eh? Qui C'è una leva Sì Attivato il circuito zeta Bisogna disattivarlo In questa pagina Chiaro? Chiaro Questo prima di rispondere al telefono Sì Quindi se io sento suonare il telefono Vengo lì E attivo il circuito zeta E poi Disattiva Poi dico Dottor Thomas Non è in sede Chiaro Chiarissimo Semplicissimo Semplicissimo Grazie La sua soddisfazione È il nostro Miglior premio Ah Sì? Sì. Il dottor Thomas non è in sede. Come va? Bene, eh? Benissimo. Bene. Aspetta. Sì. Sende. Sì. Il dottor Thomas non è in sede. Bravo. Vi compiaccio. Prego. Sa cos'è questo? Questo? Che si è? Avvisatore acustico. Zufolandone l'avvisatore. Prego. Lei attiva un circuito Y di rigore. Di rigore, va. Poi, sempre se non le dispiace, no? Qua c'è una leva che lei disattiva. Chiaro? Un momento che riempilo con un attimo. Tu che io sai da squillare il telefono. Faccio. Vengo di qua. Il circuito Z. Poi pirimi, pirimi, pirimi. Eh, è disattiva. Vado il dottor Thomas non è in sede. Attacco. In rigore. Vengo qua. Sì. Sì. Faccio. Chiaro? Chiarissimo. Grazie. La sua soddisfazione è il nostro premio. Il nostro premio. Eh. 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 L'opera. Sì. Chiaro? L'opera. Ticareo? Chiaro? No! Ticareo? ... Rigore! Ti ho tolto il tuo boss, lo risiede? Vadovo! Non so... Qualcun, qualcun... ... ... Un, due, tre, quattro... ... Non c'è... ... Rigore! Punizione! Non c'è il sede, non c'è il sede ... 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 Oh, hai, oi? Oh! Oh, hai! Da cherser, da cherser! Oh! bravo signor diventore si ma la sua soddisfazione è il nostro miglior premio ce l'ha una scopa per farmi cosa? siccome mi è rimasto il sedere libero già che ci sono do una pulitina all'ambiente scuola!